La mattina successiva venne da lei in carcere il dottor Natoli che lavorava in retto contatto con Paolo Borsellino, ha lavorato con Falcone. Cosa le disse? Si preoccupavano che io non collaboravo più. L'ho guardato e mi veniva da piangere. Non ho voluto sapere più niente. Ci ho detto ora ho un motivo in più per collaborare. Grazie Gaspar. La prima volta che sono venuto a incontrarti, ricordo che mia figlia mi disse ma tu sei pazzo di far incontrarti quella persona. Con le sue mani ha sciangolato tante persone e io gli ho detto ma io sono sicuro che Gaspar è diventato un'altra persona e quindi io non stringo la mano a quel Gaspar di allora, stringo la mano al Gaspar di oggi e io non soltanto gli stringo la mano ma l'ho apprezzato tutto perché oggi Gaspar è un'altra persona. Ma perché è convinto che sia un'altra persona? Grazie.